Salve a tutti signori e ben ritrovati su Pausa Caffè. Andiamo a parlare della discussione molto accesa da parte di parole dure che arrivano da parte di Federica Sciarelli che, in maniera molto implicita, ha struncato Fabio Fazio ma anche Lucia Annunziata. Insomma, due piccioni con una fava. Ebbene, la conduttrice di chi l'ha visto non era intervenuta su questi additi della RAI che hanno praticamente sconvolto in qualche modo il pubblico. Tra l'altro, un'altra ad andarsene è stata anche Bianca Berlinguer, passata direttamente a Mediaset. Ma la presentatrice del programma in onda su RAI 3 è stata davvero molto determinata e più che chiara nel giudicare i colleghi. Prima di dirvi cosa ha detto Federica Sciarelli su Fabio Fazio, quest'ultimo nella presentazione dei palinsesti di Discovery, ricordiamo che lui, con duracche tempo che fa sul canale 9, ha detto qualche giorno fa, mi lascio tutto dentro, 40 anni di vita. Il pubblico vede tutti gli anni precedenti e li lega a momenti della loro vita personale. Non sentirete mai una parola contro la RAI, è il piatto che ho cucinato. Ma questo non è bastato a placare la presentatrice. Nonostante non abbia mai voluto fare i loro nomi, tutti hanno capito che Federica Sciarelli ce l'aveva proprio con Fabio Fazio e l'ha annunziata, che hanno deciso di lasciare la TV di Stato dopo che è cambiato il governo alla guida dell'Italia. Innanzitutto, intervenendo alla stampa, la padrona di casa di chi l'ha visto ha affermato, trovo brutto tutto questo parlare della RAI che vira a destra. Se uno dovesse farmi delle pressioni, io gli rispondo che faccio la giornalista. La Sciarelli ha ammesso di aver vissuto in prima persona anche degli avvenimenti poco piacevoli, anch'io ho subito pressioni, ma sono sempre state pubbliche. Penso per esempio agli attacchi della Lega durante il periodo del Covid a Salvini quando anni fa contestò lo schiaffo al carabiniere. Ogni volta ho risposto nel merito, pubblicamente. Ma è su Fazio e Lucia annunziata che, sebbene non li abbia citati esplicitamente, che lei si è sbilanciata svelando cosa avrebbe fatto al loro posto. Alla stampa Federica Sciarelli ha esclamato, se davvero pensi che il tuo approfondimento sia strategico ed è in pericolo non te ne vai via preventivamente, resti e ti batti. Non capisco chi lascia. Inoltre, se sei un giornalista, le pressioni non te le fai fare. Attacchi il telefono. Mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.